Qualche giorno fa un nostro telespettatore ci ha inviato un video in cui denunciava la situazione disastrosa in cui versa il marciapiede di Via Angarano, ricorderete senz'altro il nostro servizio. Noi siamo stati dalla sindaca Pavan a chiedere l'UMI, visto che la questione abbattimento delle barriere architettoniche necessita una soluzione il più rapida possibile. L'attenzione da parte dell'amministrazione a eliminare proprio qualsiasi tipo di insidia sul manto stradale e dei marciapiedi c'è e fa parte di un lavoro di programmazione che destinerà le risorse dell'amministrazione a rotazione in varie aree di anno in anno ma sicuramente va bene segnalare tutte queste criticità proprio per dare anche un segnale su dove effettivamente sia più opportuno ed urgente intervenire. Bene, abbiamo sentito totale attenzione dell'amministrazione comunale. Peccato che il nostro telespettatore abbia segnalato più e più volte al comune questo problema senza alcuna soluzione. E sentite la risposta. Purtroppo anche la pandemia non aiuta proprio il lavoro dell'amministrazione nel senso che ad esempio adesso abbiamo diversi dipendenti, il 70% in smart working. 70% in smart working? Ma ha idea di quello che succede nel suo comune? Perché noi abbiamo chiesto a chi lavora all'interno dei lavori pubblici e ci è stato detto chiaramente che nessun tecnico è in smart working. A presente la sindaca Pavan cosa significherebbe anche solo il 40% dei tecnici in smart working? Bassano sarebbe bloccata, cara sindaca. Dovrebbe stare più attenta a quello che dice nel rispetto del 60% dei bassanesi che l'hanno eletta e che non intendono proprio essere presi in giro. Grazie. Grazie.